Ergastolo per Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, come richiesto dall'accusa, lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione, confermando la sentenza di primo e secondo grado per l'omicidio di Sarascazia da Vetrana il 26 agosto 2010. I giudici hanno confermato anche le condanne per Michele Misseri a 8 anni e per suo fratello Carmine a 5 anni e 11 mesi. Nel confermare gli Ergastoli, il collegio della Cassazione ha leggermente ridotto l'isolamento diurno per Cosima e Sabrina, escludendo l'aggravante del numero di persone in concorso per la soppressione del cadavere di Sara. Sono stati condannati anche Vito Russo Junior a 1 anno e 4 mesi e Giuseppe Nigro a 1 anno e 4 mesi. Misseri, lo zio di Sarascazia, è stato riconosciuto colpevole di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove, suo fratello di soppressione di cadavere, mentre gli altri due di favoreggiamento.